Il Corano Sono nato in Marocco, sono nato qua che avevo 5 anni, sono cresciuto qui, ho imparato a leggere il Corano in carcere. Come faccio io ad accettare una cosa se Dio non l'accetta? Se Dio non accetta una persona che da uno, un musulmano diventa cristiano. Questo incontro abbiamo un ospite speciale. Qualcuno di voi lo conosce? Lui era qua. Siamo una costituente libera nel senso, siamo anche fuori dal carcere, siamo una corte costituzionale che siamo in un paese, non siamo dentro un carcere. Adesso iniziamo a scrivere e ognuno scrive quello che è per lui la società ideale. Questo è è un paese che preparme un pazzo per la solidarietà di questa società. Quando si faLE il riso di una persona un po' per il riso, abbiamo un po' per lo fotografi. Non ho capito, è vero il vero, è vero? Non ho capito, è vero? È vero il vero. Perché bisogna usare il rapporto che si mi ricordo a vedere e a vedere. Non ho capito. Se si chiama il riso di questo, non ho capito a vedere. Quedano le ringo a vedere? Quedano le ringo? Tornando mi ricordo di una persona che si sta utilizzando a vedere. Grazie.